Cari amiche, cari amichi, buongiorno a tutti, dalla vostra carissima Maga, telefonatemi, telefonatemi, ah ecco sì, ho già un messaggio, cara mia, tu c'hai un problema, amica mia, perché quella puzzigona che te sta dietro sembra il suo marito, te combinerà un guaio, state attenta, mi raccomando, scrivete, telefonate, telefonate, ciao.